Domenico Pozzovivo La Giudeira ha fatto un gran lavoro nella terza tappa? Sì, ci abbiamo provato molte volte, in salita era veramente difficile perché l'Anda ha dimostrato ieri che era più forte di noi, poi dopo è andata bene a Cangert ma speriamo che oggi vada bene qualcuno di noi. Si può vincere la tappa, si può puntare anche alla classifica generale? Sì, la tappa è la maniera anche di arrivare alla classifica generale perché ci sono 10 secondi di abbono al primo, quindi sono due cose molto legate. Domenico, dis-moi qualcosa per i fan de France. E' un messaggio per i tuoi fan della Basilicata? Il messaggio è che spero di dargli tante soddisfazioni, so che già in questo Giro il Trentino mi stanno seguendo molto e spero che possa ripagare questo affetto nelle tappe importanti del Giro.